Un caro saluto a tutti i pezzosiani, voglio ricordarvi che il giorno 28 di agosto sarò ospite di uno spettacolo a Florivia del nostro amico Alessandro. Sarò ospite di Alex Fiorello, il mio amico Alex Fiorello, e del mio figliocio Giancarlo Venzosino. Quindi non mancare il giorno 28 di agosto a Florivia, Gianni Pezzosi vi verrà domani. Un grosso bacio, ciao Alessandro!